In un'intervista concessa di recente al Quotidiano Avvenire, e nel corso della quale ha parlato diffusamente della nuova serie di Don Matteo che si appresta a tornare in onda su Rai 1, Terence il si è soffermato anche su alcuni aspetti del suo personaggio e tracciando un parallelismo tra l'eroe in Tonaca e Papa Francesco. Il pontefice mi piace perché ha un linguaggio semplice, le sue parole rendono la vita di Cristo più terrena ha raccontato l'attore dopo che il giornalista gli ha ricordato un aneddoto, ovvero quello di una donna che, sul set della fiction che sta girando, aveva detto in un'occasione che lo stesso Terence il le ricordava proprio il Santo Padre. Secondo il 78enne originario di Venezia, infatti, grazie al Papa la gente si sente più vicina alla Chiesa e alla rivoluzione cristiana, provando gioia ed entusiasmo. Il modo migliore per avvicinare la gente è la gioia, non le bastonate e dire cosa si deve fare piuttosto cosa non si deve fare, come fa Francesco ha spiegato Terence il che, nei panni di Don Matteo, pare ricalcare in piccolo e ovviamente nella finzione scenica le qualità del pontefice. R.G. Flore Terence il ha parlato dell'undicesima stagione di Don Matteo, Fiction di Rai 1, in un'intervista concessa a TV Sorrisi e Canzoni. L'attore noto per il suo sodalizio con Wood Spencer si è sbilanciato molto, dichiarando che Don Matteo 11 sarà la miglior stagione di sempre della Fiction di Rai 1. Queste sono state le dichiarazioni principali con le quali Terence il ha motivato il suo entusiasmo, c'è stata una svolta sia nel racconto sia nelle immagini. Mi sembra che i nuovi episodi abbiano più forza del solito. Terence il ha svelato anche qualche anticipazione, dichiarando che, in un episodio della nuova stagione, Don Matteo sparirà nel nulla. L'attore ha dichiarato che, in questa stagione, ci sono state migliorie anche a livello tecnico. Terence il, infatti, ha lodato la regia, il montaggio, il direttore della fotografia e tutta la troupe in generale. Terence il ha anche parlato della new entry di questa stagione, Maria Chiara Giannetta. Terence il ha riservato complimenti all'attrice che interpreterà il nuovo capitano dei Carabinieri. Riguardo Nino Frassica, invece, l'attore è dispiaciuto del fatto che non abbia girato molte scene con l'attore messinese ma ha dichiarato, anche la comicità di Nino, che è sempre più in forma, sarà diversa dal solito. Nell'intervista, si è anche parlato del fatto che gli attori nuovi di Don Matteo vengono subito accolti dal protagonista con molta disponibilità. L'attore ha confermato tutto ciò, confessando che, quando era agli inizi della sua carriera, nessun attore più famoso di lui si comportò nella stessa maniera. Terence il non conosce la competizione e, ritornando su Nino Frassica, ha dichiarato che, tra loro, c'è sempre stata molta collaborazione. Alla domanda riguardante un eventuale Don Matteo XII, pur non rispondendo esplicitamente, Terence il ha dichiarato che sarebbe disponibile a girarla soprattutto per affrontare nuove tematiche, fino ad ora ancora inesplorate come il traffico di armi.